Presidente Dotti, un raduno di vera ed epoca che non è un raduno solo in Perriese, non a caso ospitato tenuto a battesimo, anzi qui in Regione, come un po' simbolo di questa Liguria? Perché è una di quelle manifestazioni che qualificano la nostra Regione da tempo e su cui noi puntiamo moltissimo per costruire un modello di sviluppo che sia basato appunto sul turismo, sul terziario, sulla capacità di proporre i nostri territori non delocalizzabili come una risorsa vera per costruire ricchezza, turismo, terziario e tutto quello che deve far parte del nostro modello di sviluppo. Una vetrina come quella delle vele d'epoca è una delle vetrine che servono, ne servirebbero molti altri e mi auguro che ci sia emulazione a questo esempio di buon successo. Lugio Carli, Presidente di Assonautica, andiamo nei trent'anni in livello d'epoca, nell'anno dei trent'anni di Imperia TV, quindi insomma è un matrimonio che funziona, direi e qui a Genova tenuto a battesimo questo raduno, è un raduno interessante, un raduno che anche quest'anno porterà non solo in manchina ma in mare, soprattutto barchi importanti. Sicuramente trent'anni, trent'anni di storia, di buon lavoro sicuramente di tante persone che hanno creduto in questo progetto, di chi prima di me si è seduto sulla poltrona del Presidente di Assonautica, ha fatto veramente un lavoro straordinario, di tanti amici che nel 1986 per primi si sono messi insieme pensando a questo progetto di vele d'epoca che sembrava una cosa facile ma poi tanto facile non è. Sappiamo che chi va per mare ha voglia poi di scappare, di andare, poi molte volte di tornare, per cui non è facile tenere insieme tanti e tanti personaggi. Sicuramente Assonautica ce l'ha fatta, ha vinto questa battaglia, sarà l'edizione numero 19 della grande regata, perché ricordiamo è una grande regata velica. Abbiamo oggi, che siamo neanche alla fine di luglio, più di 60 barche iscritte, per cui andiamo verso, speriamo, più delle 85 che abbiamo avuto nell'ultima edizione. Normalmente nel mese di agosto si fanno tante iscrizioni, per cui contiamo molto nei prossimi giorni. È un lavoro straordinario, un lavoro che vede coinvolte tantissime persone, dallo staff di Assonautica, sempre straordinario, alla Capitaneria di Porto d'Imperia, che voglio personalmente ringraziare, perché hanno veramente dato un grande contributo perché questa edizione potesse pigliare piede. Poi ovviamente c'è il Lago Imperia, il Comune, c'è tutti coloro che poi ci aiutano in questo difficile e complicato progetto. A voi di Teleimperia, che siete sempre la nostra voce narrante di quello che sta accadendo. Ovviamente siamo un territorio, come dicevamo prima, non facile, perché i progetti magari non sempre vengono perfettamente compresi e capiti, ma forse le vele d'epoca ce l'hanno fatta e speriamo che sia l'edizione numero 19 e la prossima, quella numero 20, sia ancora più bella di questa. Presidente, alcuni passaggi importanti, anche se brevemente, in banchina, un campionato di pesto, la musica per aiutare ancora Sergio Salvagno, l'amico Salvagno, e poi in mare Yacht Club Imperia, Porto Maurizio Yacht Club. Quindi si gioca veramente in casa questa. Ma sappiamo che nei giorni prima del nostro evento ci sarà un evento un po' particolare altrove che preferiamo non citare. Sicuramente abbiamo portato a bordo invece degli amici, degli amici veri, che sono appunto lo Yacht Club Imperia e lo Yacht Club Porto Maurizio, che hanno preso la sfida di organizzare a mare la grande regata, quindi si sono presi questo onere molto importante, per cui hanno la grande responsabilità di far sì che tutto lo svolgimento del campo di regata e della manifestazione, della parte più importante della manifestazione, vada al meglio. Poi invece a terra, in banchina, vogliamo sempre, come sempre, avere dei grandi eventi molto importanti, che portino poi il grande pubblico a divertirsi anche nelle serate, per cui ringraziamo il Civ Borgo Marina, perché con l'animazione che crea appunto in tutti i suoi locali durante le quattro giorni di festa delle vele d'epoca, è sicuramente il luogo più importante e vicino all'organizzazione diassonautica. Poi abbiamo ovviamente l'ottava edizione del concorso di decorazione floreale, che è sicuramente un momento di nuovo molto piacevole per tutto il pubblico femminile che si avvicina alla regata e anche per quello la grande parata della domenica è sicuramente un altro momento che abbiamo sperimentato nella scorsa edizione, che vogliamo appunto portare avanti e renderlo ancora più piacevole e ricco e tutto il pubblico avrà la possibilità, nel bacino di Oniglia, di voler sfilare di nuovo le barche. L'altra volta, anche per me che vado da tantissimi anni in mare, è stato un momento molto molto emozionante e penso che quest'anno riusciremo a fare altrettanto. Poi il sabato sera i fuochi, che sono sicuramente il nostro momento più piacevole e divertente e quest'anno vorremmo fare appunto in banchina un momento celebrativo dei 30 anni che pensiamo sia veramente un momento molto molto piacevole di ricordo. E poi l'amico Flavio Serafini, che ha sempre qualcosa da dire sull'evento Velle d'Epoca, che sarà appunto con noi, celebrando proprio i 30 anni dello sviluppo del progetto e lui sicuramente è una persona che lo ha conosciuto nelle sue viscere, possiamo dire, di barche d'epoca parliamo. E speriamo che al più presto possa vedere il taglio del nastro del Museo Navale, che sicuramente la città dei marinaico all'Imperia merita di avere al più presto attivo. Ma le Velle d'Epoca sono un appuntamento storico, ovviamente a chi come me di Imperia e per molti anni la seguite come assessore al turismo del Comune d'Imperia, è un grande piacere, un grande onore, ma è un valore aggiunto per la Liguria, ma direi anche per l'Italia intera, perché è un evento straordinario. L'Osonautica con il Presidente Carli ha fatto in questi anni un grandissimo lavoro per fare in modo che questo evento diventasse e si consolidasse come un evento mondiale internazionale che porta immagine al nostro territorio Ligure, porta prestigio alla Liguria con un legame fortissimo tra il mare e ovviamente il nostro territorio. Quindi nell'ottica del rilancio turistico che il collega Berrino sta facendo molto bene e purtroppo non può essere presente per altri impegni come anche la collega Cavo a questa conferenza stampa, stanno facendo un grande lavoro per lanciare il tema della mia Liguria e le vele d'epoca in quest'ottica sono proprio al centro di quei tipi di eventi, di quel tipo di iniziative che servono a tutto il nostro territorio per rilanciarle economicamente, per dare anche un po' di entusiasmo a una Liguria che forse per troppi anni è stata un po' spenta, un po' chiusa su se stessa e anche con questi eventi internazionali vuol farsi conoscere nel mondo e richiamare turisticamente tanti visitatori Liguria perché la nostra è una terra meravigliosa.